Buonasera a tutti, benvenuti e benvenute a questo incontro di stasera. Ricordo anche adesso l'invito a tenere chiusi i microfoni e poi a muoversi come si preferisce per quanto riguarda la videocamera. Chi sono io? Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Enrica Ena e sono la coordinatrice e la responsabile della progettazione del cambiamento Nasce da Dentro. Vi do il benvenuto a nome del gruppo di lavoro, di tutto il nostro gruppo di lavoro, anche della dirigente scolastica dell'istituto a cui fa capo il gruppo di lavoro che questa sera ci raggiungerà più tardi e poi anche dei nostri partner che sono Casa Emmaus, impresa sociale di Glesias e la fondazione Giuseppe Dessi di Villa Cidro. Per chi ancora non ci conoscesse, ogni incontro abbiamo visto che sono sempre presenti anche delle persone, insomma, di nuovo ingresso, diciamo. Ricordo che il cambiamento Nasce da Dentro è un progetto di formazione itinerante che ha diversi obiettivi, tra questi promuovere occasioni di riflessione sulla scuola, costruendo spazi di dialogo. Molti di voi conoscono il nostro spazio dialoghi e contaminazioni che è arrivato ormai a cinque incontri, presto avremo il sesto, il 26 di maggio, ma poi ve lo ricorderò a fine incontro. Promuovere poi ancora la diffusione orizzontale di esperienze pratiche significative nate dentro le scuole e che spesso sono note, sono poco note al più. Promuovere la conoscenza di maestri, educatori, pedagogisti che hanno segnato in modo importante la storia della scuola e che ci aiutano e aiutano a riposizionarsi nelle domande che guidano l'impegno nella scuola e nella società. E ancora, infatti il nostro gruppo di lavoro lo dimostra, insomma cerchiamo di coltivare l'alleanza scuola-famiglia, ma anche quella con l'intera comunità, a vantaggio della scuola pubblica, intesa proprio come bene comune di primaria importanza per costruire una società democratica improntata ai valori della Costituzione. Allora, il gruppo di lavoro, così come coloro che mette insieme, è costituito da docenti, genitori, dirigenti scolastici, studenti e altre figure educative. Anche oggi la composizione dei partecipanti è molto eterogenea, sono presenti i docenti delle scuole di ogni ordine grado, anche se la prevalenza è sempre del primo ciclo di istruzione, ma questo accade un pochino dappertutto, in particolare primaria e infanzia. Genitori, poi sono presenti i genitori, studenti, dirigenti scolastici, altre figure educative. Questo pomeriggio, come sempre, per gli incontri di questo tipo, oltre agli studenti dell'università che partecipano, come detto, abbiamo anche qualche studente dell'Istituto Abaudi di Vesme, del liceo delle scienze umane ed economico-sociale, ai quali do un particolare benvenuto. Ci piace sempre che si uniscano a noi. Da quanto detto, si coglie subito l'importanza di incontri come questo per noi e la gioia oggi di essere qui per questo appuntamento con Enrico Bottero, che sarà interamente dedicato all'eredità dell'educazione nuova per la scuola di oggi. Un incontro che ci ricorda le origini di tante scelte pratiche per noi importanti e che nel contempo ci rimette davanti ad alcune delle preoccupazioni di allora che sono ancora molto presenti nel dibattito sull'educazione e che è necessario affrontare a nostro avviso in modo attento per non cadere proprio in quei luoghi comuni a cui abbiamo avuto già modo di fare riferimento grazie agli incontri con Philippe Merier. A questo proposito, l'ho già fatto, ma ci tengo a consigliare ancora la lettura del libro, poi lo metteremo anche in bibliografia e lo ricorderò alla fine, Pedagogia dai luoghi comuni e concetti chiave di Philippe Merier curato da Enrico Bottero, che dei principali problemi dell'educazione nuova rappresenta sicuramente una sintesi puntuale. In questo appuntamento troverete a mio fianco nella gestione attiva dell'incontro Isabella Ungarelli, Maria Arca e Maura Mei e sempre Riccardo Conto di Casa Emmaus, impresa sociale che ci sostiene per gli aspetti tecnici ma non solo. Ma veniamo all'incontro di oggi e alla sua organizzazione, scusate un secondo. Allora il tema, come già detto, è quello dell'eredità dell'educazione nuova per la scuola di oggi, un percorso che partirà con la fine della prima guerra mondiale e arriverà in realtà poi, ho visto i materiali di Enrico quindi anche prima, e arriverà fino, non li avevo ancora visti, e arriverà fino all'attualità. Ad accompagnarci sarà appunto il professore Enrico Bottero che vi presenterò a breve, anche se tanti di voi già lo conoscono perché con lui abbiamo avuto veramente modo di lavorare diverse volte sia in presenza, sia in Iglesias che a Villacido, sia su ambiente digitale, sia con incontri proprio gestiti da Enrico, in cui l'abbiamo avuto proprio come relatore, l'ultimo era stato l'anno scorso sulla, su Freinè, con l'uscita del suo libro, ma anche nel suo ruolo di interprete durante tanti appuntamenti con Philippe Merier. E lo avremo di nuovo con noi, insieme a Philippe Merier, a settembre per le due belle conferenze educative che abbiamo programmato in presenza, una d'Iglesias e una Villa Cidro all'interno del premio letterario Giuseppe Dessi, proprio di una settimana che è veramente molto speciale. Ma entriamo nel tema. Allora, l'espressione educazione nuova fa riferimento al movimento internazionale che si sviluppò a partire dalla fine del diciannovesimo secolo e si strutturò nel 1921 a Calais con la fondazione della Lega Internazionale per l'educazione nuova. Si era appena conclusa l'esperienza tragica della Prima Guerra Mondiale e negli ambienti più innovatori della società europea era profondamente sentita l'esigenza di formare un uomo nuovo, tollerante, democratico e libero, quindi capace di promuovere la pace tra i popoli. In Belgio, in Italia, in Francia, in Gran Bretagna, in Unione Sovietica, in Germania, molti educatori si proposero proprio di modificare profondamente pensieri e pratiche dell'educazione. L'obiettivo era quello di diffondere le idee di un'educazione rinnovata nel segno del ritorno al ragazzo, ai suoi interessi e impulsi naturali, ignorati da un'educazione trasmissiva autoritaria che aveva formato soldati non cittadini. Tra il 21 e il 39 gli educatori che aderirono alla Lega dell'Educazione Nuova si incontrarono più volte condividendo principi federatori. Ben presto però emersero posizioni differenti, io vi anticipo qualcosa ma poi sarà ricco al professor Bottero a chiaramente entrare nel merito. Posizioni differenti tra chi attribuiva valore primario alle esperienze dei pratici e alle loro intenzioni e chi riteneva che le scuole nuove dovessero fondarsi solo su rigorosi dati sperimentali. Tra chi sosteneva la necessità di rispettare in modo assoluto la spontaneità del ragazzo e chi al contrario riteneva che la vera libertà potesse esprimersi solo all'interno di vincoli determinati da materiali e situazioni organizzate, di cui Enrico ci ha detto bene nei suoi punti. Tra chi credeva che bisognasse optare per scuole ideali fuori dai circolti istituzionali che al contrario riteneva che l'innovazione pedagogica dovesse costituire uno stimolo per cambiare la scuola pubblica. Allora l'intento di questo incontro qual è? È quello di contribuire al recupero delle origini dell'educazione nuova, finora troppo ignorate, per comprendere meglio le sfide di oggi che non sono molto diverse da quelle di allora. Come dice Enrico Bottero nell'ABSPAC che ci ha fornito è necessario affrontare queste sfide per non soffrire, per non offrire, scusatemi, nuove armi ai fattori della pedagogia tradizionale la cui resistenza le ha permesso di continuare ad essere gemone anche nella scuola di oggi. Ma c'è anche un'altra ragione che rende molto importante parlare di educazione nuova. In questi ultimi anni infatti stiamo assistendo alla rinascita di un movimento internazionale che si ispira alle idee della Lega Internazionale dell'Educazione Nuova che è il progetto Convergence. Enrico, povera pronuncia, mi sgriderà di sì. Io in italiano, Convergence. Sì, sì, Convergence, che organizza ogni due anni la Biennale dell'Educazione Nuova. Nel corso del prossimo incontro della Biennale dell'Educazione Nuova che si terrà a Bruxelles a ottobre del 2022 verrà discusso, approvato un nuovo manifesto, quindi anche questo è veramente un aspetto molto importante, un nuovo manifesto dell'educazione nuova per il ventunesimo secolo. Nel frattempo anche in Italia è stata avviata una riflessione su questi principi e sulla loro attualità. Lo scorso novembre, il 25-26 novembre a Roma, si è tenuto presso la Sapienza un convegno in collaborazione con l'Università di Salerno, dal titolo proprio Quale scuola per i cittadini del mondo, a cento anni dalla Fondazione della Lega Internazionale dell'Educazione Nuova. Al convegno che era promosso dalla SIRD, quindi dalla Società Italiana di Ricerca Didattica, hanno partecipato ricercatori di area pedagogica italiana e spagnoli, insegnanti, educatori e associazioni. Tra l'altro di questi incontri sono reperibili, ve le metteremo nei materiali, le registrazioni, anche noi abbiamo avuto modo di seguirle, noi come gruppo di lavoro, ma sono stati anche pubblicati gli atti del convegno e quindi che sono, di cui daremo appunto puntuali informazioni nella videografia. Adesso però entriamo davvero nel vivo dell'incontro perché mi sono trattenuta fin troppo, vi chiedo scusa, io devo sempre bere un goccio d'acqua. Allora, l'organizzazione prevede principalmente tre momenti, un primo intervento del professor Bottero dedicato alla parte storica. All'interno di questo primo intervento avremo modo di vedere anche uno spezzone del film Rivoluzione Scuola della regista polacca Joanna Gruzinska, bellissimo, che io ho avuto la fortuna di vedere integralmente ed è veramente un film documentario molto bello e quindi all'interno avremo questo momento. Come sarà terminato questo primo intervento sulla parte storica? Ci dedicheremo dieci minuti a interventi, eventuali riflessioni. Avremo poi, seguirà quindi un momento attivo in cui vi inviteremo attraverso un Padlet, un momento attivo che durerà 15 minuti, a fornire delle vostre riflessioni su due tesi dell'educazione nuova. Ve ne metteremo in evidenza due, una estrapolata dal congresso di Calais del 21 e una da quello di Nizza del 1932. Dopo questa parte Enrico riprenderà subito la parola per un secondo intervento invece dedicato all'attualità sull'educazione nuova per la scuola di oggi. Tutto questo però, come detto, sarà intervallato da momenti di riflessione e anche da un ritorno al Padlet, soprattutto nella parte finale avremo 20 minuti pieni che dedicheremo ancora appunto a domande e riflessioni. Quello che ci tengo a dire che è molto importante per oggi è che non lasceremo la chat aperta durante gli interventi, ma avrete modo di lasciare le vostre domande e riflessioni con un mentimeter che adesso Isa che può già chiudere la chat può mettere però a disposizione, quindi potrete comunque cliccarci e quindi avrete a disposizione questo link dove potete scrivere anche più di una domanda e riflessione. In questo modo facciamo, l'abbiamo voluto fare, è una scelta che abbiamo fatto proprio alla luce delle esperienze precedenti per evitare di distrarci troppo durante i lavori, quindi senza per questo però impedire che voi possiate appunto lasciare domande e riflessioni. Un'altra comunicazione che do prima di dare la parola al professor Bottello e comunque presentarlo un po' meglio è che anche passerà anche il foglio firme sempre sulla chat, quindi avrete modo da lì di firmare perché gli incontri, questi incontri hanno un attestato a sé stante, non come dialoghi e contaminazioni che consente di avere l'attestato solo a fine percorso. Allora io voglio adesso dare la parola al professor Bottello ricordandovi chi è, soprattutto perché ancora non lo avesse conosciuto, perché per noi è di casa ma non per tutti è così e quindi il professor Bottello è stato un insegnante, dirigente scolastico e ricercatore presso l'Istituto Regionale di Ricerca Educativa del Piemonte e professore incaricato presso l'Università di Torino. Si è occupato di ricerca educativa ed educazione musicale e oggi si occupa soprattutto di pedagogia della scuola. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il metodo di insegnamento Milano della Franco Angeli del 2014 è quello che abbiamo poi presentato lo scorso anno, abbiamo fatto una bella attività con lui, era poi presente anche Sonia Assorgato insieme a lui, l'ha accompagnato, pedagogia cooperativa alle pratiche fregne per la scuola di oggi, un libro Armando del 2021 appunto. Ha un sito web molto ricco, veramente molto ricco, dove tra l'altro oltre a portare le sue riflessioni, i suoi contributi, pubblica puntualmente anche degli articoli di Filippo Merini in italiano e l'indirizzo è www.enriccobottero.com. Allora io a questo punto gli do davvero la parola e vi chiedo scusa del tempo che forse ne ho preso troppo e passo la parola con molto piacere a Enrico e lo ringrazio veramente tanto per essere ancora con noi e per credere così tanto insieme a noi in un lavoro che mette insieme appunto insegnanti, famiglie, studenti, dirigenti scolastici, altre figure educative. Oggi abbiamo anche dei colleghi di CMA, io sono molto contenta che stiano con noi. Grazie Enrico, ti passo la parola. Grazie, grazie Enrica. Sei stata molto completa, devo dire. Mi hai già detto molte cose che riprenderò io, e quindi mi hai risparmiato un po' di ragionamenti, però a parte quello hai detto una cosa importante e cioè che quei temi, la prima cosa è che quei temi sono ancora di attualità e vedremo perché. La seconda cosa è che la storia dell'educazione nuova è poco conosciuta, soprattutto in Italia, più conosciuta in altri paesi di area francofona. La terza cosa, l'unica su cui devo dire qualcosa purtroppo non positivo è che l'Italia in quel periodo era forse il paese meno presente, perché nel 1921 quando si riunirono a Calais in Italia c'era il Biennio Rosso e la crescita del fascismo, del movimento fascista, quindi l'Italia di fatto è stata in gran parte privata di quella discussione, ma poi vedremo anche le ragioni se volete. Allora, io adesso vado a condividere lo schermo, vediamo se riuscite. Ecco, Enrica mi dici se... Sì Enrico, perfetto, tutto a posto. Va bene, perfetto. Allora, ecco, io scusate se adesso torno troppo indietro, però devo tornare troppo indietro. Faccio una premessa. Quello che vedremo noi è la parte storica. Per troppo tempo noi abbiamo pensato, negli ultimi decenni in Italia, studiando la pedagogia, che la storia dell'educazione fosse un qualcosa solo per gli storici. Io non ho mai pensato che fosse così. Faccio parte di quella generazione che invece per ragioni proprio anagrafiche di quell'epoca la storia dell'educazione l'ha studiata, anche se non aveva avuto quella preparazione didattica che magari c'è di più oggi. La preparazione didattica noi ce la siamo fatti sul campo, però la storia ce la facevano studiare. Magari con un modello anche tradizionale, però in coma. Esistevano tante pubblicazioni di storia della pedagogia e dell'educazione. Oggi credo che bisogna ritornare un po' a studiarla, anzitutto facendo dei punti fermi. Quando comincia l'educazione nuova? Allora Enrica prima ha detto che l'educazione nuova comincerebbe tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. A rigore direi che è proprio così, è proprio questo. Però in realtà le premesse venivano da lontano, venivano da circa un secolo prima, e cioè dalla stagione dell'illuminismo. È stata in quella stagione che alcuni pratici, ma anche filosofi intellettuali, hanno posto alcuni principi fino ad allora inesistenti nella cultura educativa dell'epoca. Fino al Settecento la considerazione dell'infanzia era quella di uno stato di minorità, una sorta di minorità animale, un bambino essere imperfetto che doveva essere necessariamente corretto. Si è sviluppata nell'arco di due secoli in una diversa concezione dell'infanzia, è stato scritto molto su questo, sullo sviluppo dell'idea di infanzia, perché l'infanzia è un'idea ancora prima che una realtà. L'uomo non ha sempre avuto la stessa idea di infanzia che abbiamo noi. L'idea di infanzia di abbiamo noi come quella di uno status non imperfetto, ma come uno status che di per sé è un valore, che va rispettato come tale, risale alla fine del Settecento. Risale alla fine del Settecento ed è con un protagonista naturalmente assoluto dal punto di vista filosofico che è Jean-Jacques Housseau e il suo Emilio, ma anche quello dei sensisti inglesi, no? e soprattutto di Jean-Caspar Hittard, il protagonista dell'esperienza dell'enfant sauvage, del ragazzo selvaggio, che è stato poi il tema di quel bel film di François Truffaut, in cui lui stesso Truffaut impersonava Hittard. Ecco, l'esperienza del medico Hittard è stata un'esperienza di educabilità, e cioè fino ad allora si pensava che non tutti fossero educabili, che ci fosse una parte dell'umanità ineducabile, irrecuperabile, che dovesse finire necessariamente in istituti di cura e abbandonati in attesa di una morte precoce. Parliamo dei disabili, dei ritardati mentali, dei folli. Michel Foucault su queste cose ha scritto pagine memorabili su questo. Grazie ai TAR, a Condillac, gli altri sensisti, ma grazie anche e soprattutto allo stesso Rousseau, si introduce un principio, che è un principio morale sostanzialmente, indimostrabile, è indimostrato anche adesso, ma in cui noi crediamo fermamente, e cioè che tutti sono educabili, che anche i bambini, anche le persone con notevoli difficoltà possono migliorare. Questo è questo principio morale che spinge gli educatori, quelli che ci credono naturalmente in questo, da circa due secoli. Ecco allora i due principi pedagogici su cui si fonda la pedagogia moderna e su cui si fonderà l'esperienza dell'educazione nuova, che sono due principi in qualche modo in tensione tra di loro. Perché? Perché il principio di educabilità potrebbe anche andare in contrasto col principio del rispetto della libertà del bambino. Se voi avete visto per esempio il film Il ragazzo selvaggio di François Truffaut, vi ricorderete che il medico Itar, per insegnare a parlare, per non dire a scrivere, al piccolo ragazzo selvaggio, a Victor, lo sottopone a vere e proprie torture. Torture, rinchiuderlo dentro una stanza, rinchiuderlo dentro un armadio, fargli provare tutte le paure possibili. Ecco, lì il principio di educabilità trova i suoi limiti. Cioè, fino a che punto dobbiamo spingerci nell'educabilità dell'altro senza violare la libertà sua? Ecco allora che da allora tutti gli educatori, almeno quelli seri, si pongono questo problema. Io ho il compito morale di educare, ma non lo posso fare se non rispettando la libertà dell'altro. Ecco, questo è il tema fondamentale della pedagogia moderna. Tutti i temi che precedentemente non venivano trattati, sia perché il bambino non era considerato uno stato, un valore in sé, sia perché non tutti erano considerati educabili. Ecco, nel 1800, quando sono nate le scuole nazionali, anche la nostra, non è stato adottato questo modello, non è stato adottato l'idea della pedagogia moderna nata con Rousseau e gli Illuministi, ma è stato adottato il modello clericale, e cioè quello che avevano ideato i gesuiti e i lassaliani, che è quello dell'insegnamento simultaneo e collettivo. Questo per ragioni politiche, perché l'insegnamento simultaneo e collettivo, in cui l'insegnante novello chierico dispensava la verità da una pradella che in qualche modo sostituiva il pulpito religioso, avrebbe permesso l'indottrinamento, la fidelizzazione delle masse popolari alla nuova ideologia nazionale. Questo è capitato in Francia con Ghisot nel 1830, giù di lì, in Italia soprattutto dal partire dall'unità Italia, cioè nel 1861. Questa struttura che molti insegnanti e genitori considerano la scuola, e questo deve essere chiaro, non è la scuola, è la scuola da come è stata organizzata a partire dalla metà dell'Ottocento fino ad oggi. Quindi, voglio dire, possiamo anche cambiarla, anche perché, come è dimostrato dalla ricerca, è un modello che produce spesso esclusione. Qual è questo modello? L'organizzazione del lavoro fondata sull'insegnamento simultaneo e collettivo, quindi la lezione, le classi omogenee per età, la separazione tra l'età scolare e la vita adulta, cioè la scuola come preparazione alla vita, ma non come vita, la separazione tra il sapere intellettuale e il saper fare, e naturalmente, ovviamente, tra la scuola e la vita. Ecco, questi principi, e soprattutto quello della separazione tra la scuola e la vita, sono quelli che sono stati messi in discussione a partire dalla fine dell'Ottocento dagli educatori dell'educazione nuova. Allora, l'educazione nuova, in genere, viene fatta risalire ad alcuni educatori di corrente liberale, come questi, Sessi Reddy, Edmond de Molin ed Hermann Litz, il primo inglese, il secondo francese, è un grande imitatore e ammiratore di Sessi Reddy, e il terzo tedesco, Hermann Litz. Erano sostanzialmente dei liberali, e cioè pensavano di formare delle scuole che recuperassero il rapporto tra scuola e la vita, tra sapere teorico e attività manuali e pratiche, e quindi scuole in campagna, sostanzialmente. e tutta una serie di cose che andavano in contrasto con la scuola che conoscevano le generazioni fino a quell'epoca. Si trattava in gran parte di scuole private, trovate in campagna. Allora, però, io tornerò un po' indietro adesso, perché c'è una corrente dell'educazione nuova che è stata considerata marginale, che invece considero io abbastanza centrale, che è quella della corrente anarchico-libertaria. Cioè, in realtà, prima della scuola dell'inglese Sessi Reddy, che nasce intorno al 1890-91, c'erano già state esperienze di educazione nuova, soprattutto di Paul Robin, il fondatore dell'orfanatrovio di Chempuisse negli anni Ottanta in Francia. C'era stata l'esperienza di un altro anarchico che si chiamava Sébastien Fourre, che aveva fondato una scuola che si chiamava La Rusche in Francia nei primi del Novecento, e soprattutto un educatore che è stato importante per Sébastien Fourre, e cioè Francisco Ferrer, un educatore catalano che aveva fondato una scuola che chiamava La Scuola Moderna a Barcellona. Sempre di questa corrente anarchica dobbiamo anche ricordare un altro educatore che si chiamava Henrik Sims, la scuola popolare di Altona, di Hamburgo. Ora, quale cos'era quello che univa tutte queste scuole? Un rifiuto della scuola pubblica, ma non perché è spubblica, ma perché si trattava di una scuola di stati autoritari che formavano soldati e non cittadini. In quell'epoca l'anarchismo perciò si opponeva radicalmente alla scuola statale per queste ragioni. Che cosa vi opponeva? Per esempio, l'orfanatrovo di Saint-Puisse, che vedete qui, diretto da Paul Robin, praticava un'educazione pacifista, internazionalista e proletaria, che voleva dire vita all'aria aperta, coeducazione tra i sessi, allora far parlare di coeducazione tra i sessi era una bestemmia, ecco, per le scuole dell'epoca, anche fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, direi, e soprattutto con la tipografia. Pochi sanno che la tipografia scolastica che fu poi sviluppata da Frenet fu utilizzata per la prima volta proprio da Paul Robin. e così Francisco Ferrer, anarchico catalano, che fondò una scuola e una rivista che si chiamava appunto l'Ecole Renovée, questa scuola che si sviluppò solo in pochi anni, dal 1901 al 1906, era una scuola molto moderna dal nostro punto di vista, anche qui coeducazione tra i sessi, sperimentazione scientifica per aiutare a comprendere, partecipazione dei ragazzi al funzionamento dell'istituzione, l'idea anarchica era non di distruggere l'istituzione, ma di ricostituirla a partire dall'autoorganizzazione dei ragazzi, coinvolgimento dei genitori, abolizione delle sanzioni e soprattutto attenzione alla motivazione e al piacere di imparare. Ferrer, la storia di Ferrer, forse qualcuno di voi sa, è stata molto tragica, è stata tragica perché fu accusato dal suo governo di essere un sabotatore e fu fucilato nel 1909. È stato molto importante per Celestin Frenet proprio perché utilizzava un termine, scuola moderna, che a Frenet piaceva molto di più del termine scuola nuova, cioè Ecole Nouvelle, che sarà invece utilizzato dalla maggioranza dei nostri riformatori. Ecco, riprendo perciò i nostri riformatori classici. Ecco, se voi andate a leggere il primo libro scritto in Italia sull'educazione nuova, l'ho scritto Ernesto Codignola. Ernesto Codignola, che molti di voi sicuramente conoscono, ma se andate a leggere il libro di Ernesto Codignola, uscito alla fine degli anni 40, Le scuole nuove, i loro problemi, non parla di quella corrente lì anarchica che ho detto prima, ma parla di questi che vi faccio vedere ora, cioè di Sessi Reddi, di Edmond de Molin e di Hermaliz. L'idea loro, anche loro, era quella di fare delle scuole in campagna, fondate soprattutto su laboratori pratici, sulla vita all'aria aperta, e soprattutto una scuola che valorizzasse i talenti, una scuola che valorizzasse i talenti e che preparasse, diciamo, i pupilli della nuova emergente borghesia. Edmond de Molin affondò in Francia, l'Ecole des Roches, una scuola che si ispirava proprio alle esperienze e alle pratiche di Sessi Reddi. Lo stesso Hermann Litz, tedesco, si ispirava alle pratiche di Sessi Reddi in modo un po' più nazionalistico, come allora erano i tedeschi, e fondò le cosiddette internati di Campania in Germania. In questi internati si formò un giovane ricercatore che poi sarà un grande protagonista dell'educazione nuova, e cioè Ferriere, Adolphe Ferriere. Ferriere appunto è stato forse nel movimento dell'educazione nuova il più federatore, fu amico di tutti, fu amico dei socialisti e dei comunisti, degli anarchici, ma anche dei liberali. Tentò insomma di costruire un movimento unitario quando in realtà veramente unitario non era. E fu lui, fu lui probabilmente a introdurre il termine, l'espressione educazione nuova, quando nel 1899 fondò il Bureau Internazionale dell'Education Nouvelle e lui sempre nel 1911 scrisse le famose 30 tesi che avrebbero permesso secondo lui di individuare una scuola nuova distinguendola dalle altre. Sul mio sito ma anche sul sito della SIRD se siete interessati potrete andare a leggere queste 30 tesi e vedere quanto possono essere attuali. Quale fu l'importanza di Ferriere? Fu il fatto che con le sue 30 tesi, con il suo Bureau Internazionale e soprattutto con la rivista che fondò e cioè Pour l'Ere Nouvelle fece da catalizzatore di tutti questi movimenti sparsi e suddivisi tra di loro. Fece da ponte soprattutto tra l'area di lingua tedesca e i paesi latini. Ecco, avrete notato che non ho citato il personaggio più importante tra gli italiani dell'educazione nuova e cioè Maria Montessori e l'ho fatto naturalmente volontariamente perché di Montessori bisognerebbe dedicare un incontro intero. Mi limito a dire che Montessori era già molto famosa molto conosciuta anche negli Stati Uniti prima del 1921 che influenzò molti di questi promotori dell'educazione nuova influenzò gli inglesi e influenzò anche la scuola di Ginevra però Montessori per sua scelta restò sempre un po' a margine del movimento così come restò un po' a margine del movimento per altre ragioni Salestin Franet poi non a caso o forse casualmente questi due personaggi Suesse Salestin Franet e Maria Montessori furono probabilmente le persone che dopo la fine della Lega nel 1939 cioè nel secondo dopoguerra costruirono dei movimenti attivi anche a partire dagli anni 50 mentre la Lega e tutti gli altri esponenti divennero per non dire sconosciuti certamente marginali quindi Maria Montessori Salestin Franet figure importantissime nella pedagogia del Novecento ma un po' a margine rispetto al movimento di quei ventani ecco Edouard Clapared insieme a Ferriere fu uno dei grandi animatori dell'Istituto Jean-Jacques Rousseau ecco nel 1912 nasce l'Istituto Jean-Jacques Rousseau l'Istituto Jean-Jacques Rousseau è il luogo in cui nasce la pedagogia scientifica nasce la psicologia scientifica nasce la psicopedagogia fu lo stesso Clapared a utilizzare un'espressione importante quella di rivoluzione copernicana della pedagogia a proposito dell'educazione nuova ecco e qui arriviamo al 1921 nel 1921 subito dopo la guerra questi movimenti diversamente divisi divisi su molte cose sentirono il bisogno di incontrarsi la ragione la 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 trovò Henri Wallon un studioso che poi entrò nel movimento successivamente nell'inizio degli anni trenta Wallon ricordò questo ricordò che questo congresso fu il risultato di un movimento pacifista e cioè dopo la macelleria della prima guerra mondiale questi educatori pur diversi tra di loro riconobbero un'esigenza e cioè che l'educazione avrebbe dovuto fare qualcosa per evitare che quella macelleria si dovesse ripetere avevano cioè una loro critica da fare alla scuola la scuola se la scuola nazionale che hanno preceduto la guerra hanno potuto formare militari soldati e non cittadini tutto questo doveva essere cambiato bisognava in una scuola nuova formare un uomo nuovo solidale e capace di vivere la pace per il futuro noi sappiamo com'è andata purtroppo non furono buoni profeti ma nel 1921 proprio grazie a questa esigenza morale se volete nacque il movimento e qui vedete il manifesto con i principi di adesione le principi de ralliement e le but della Ligue cioè le scopi della Lega in documento in francese che sono stati pubblicati da Ferrière nel rivista dell'educazione moderna non erano presenti tutti ma erano presenti quelle persone che vedete soprattutto quelle persone che vedete scritte lì ora mi fermo perché come vi aveva anticipato Enrica sull'esperienza della Lega è stato fatto un bel film con documenti originali da parte di una regista franco-polacca cioè Joanna Gruzinska che abbiamo avuto l'onore di ricevere e di ascoltare a Roma questo film che vedrete probabilmente in futuro in completo potremmo vederlo qualche spezzone ora perché ci dà l'idea dell'inizio di quell'esperienza benissimo Enrico mi riprendo la parola grazie è già chiuso le slide allora adesso io mando il video e anticipo già che quell'intervento della regista a Roma è presente anche nella registrazione quindi dei materiali che metteremo a disposizione quindi potrete anche ascoltarla perché anche io ho seguito l'intervista molto piacevole che tra l'altro ha tradotto Enrico e ha gestito Enrico allora vado a condividere anche io lo schermo lancio il video e vi dico di non preoccuparvi se all'inizio non sentite l'audio perché è molto basso ma dovrebbe arrivare subito dopo allora scusate che qui ci sono tutti i link vado alla cartella eccolo qua benissimo allora io ridò subito la parola a Enrico Bottero così lui prosegue questa parte storica e poi dopo ci fermeremo riattiveremo anche la chat e ci fermeremo appunto per il Padlet per fare un'attività prego Enrico sì allora siete riusciti intanto a seguirlo bene? a vedere bene sì? sì 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 seguivo allora quello che avete visto è appunto una presentazione che darebbe l'idea di una sostanziale unità di intenti da questi educatori in realtà non era così perché già allora c'erano delle differenze allora qual era il punto di partenza? lo dice bene il film soprattutto negli ultimi minuti quando dà la voce a Ferriere il tema centrale a Calais nel 1921 era l'espressione creativa spontanea del bambino cioè l'idea era che il bambino ha un potenziale di energia naturale potenziale che si manifesta con una capacità creativa l'educazione non avrebbe altro che il compito di cercare di liberare questa capacità creativa in fondo ci sta dietro un principio morale non dimostrato e cioè la naturale bontà del bambino ora su questo come potete immaginare poi negli anni successivi al congresso di Calais cioè il congresso di Montreux del 23 i congressi successivi a Locarno soprattutto nel 27 ci si discusse su questa cosa cioè che cosa vuol dire espressione creativa e che cosa vuol dire libertà ed è vero che il bambino è naturalmente buono come pensava probabilmente Rousseau poi alcuni vedevano questa libertà alcuni questa espressione creativa sotto l'aspetto biologico altri sotto l'aspetto per esempio psicoanalitico perché c'era anche Jung in questo movimento lo psicoanalista altri per esempio come Ferriere sotto l'aspetto tipologico Ferriere addirittura aveva costruito lo potete leggere nel libro la scuola attiva le tipologie cioè diceva per sviluppare l'espressione creativa del bambino bisogna conoscerlo questo dicevano quelli di i ricercatori di Ginevra per conoscerlo bisogna essere psicologi e Ferriere per esempio aveva classificato una serie di tipologie e aveva detto l'educazione per poter intervenire positivamente deve tener conto delle caratteri tipologici di ciascuno ora questo non è affatto detto che sia giusto perché i caratteri tipologici non è detto che esistano come diceva Ferriere soprattutto non è detto che un carattere tipologico che ha un bambino a sei anni poi abbiano quello stesso carattere a dieci ecco che quindi inizia una discussione una discussione che si svolgerà soprattutto nei mesi negli anni successivi attorno al concetto di libertà che cos'è la libertà e soprattutto la libertà è un fine o è un mezzo cioè diamo libertà si chiedevano loro nei loro incontri diamo libertà al bambino perché possa costruire una sua autonomia che all'inizio non ha oppure consideriamo la sua libertà quella che lui ha come punto di partenza che a noi non resterebbe nient'altro che contemplare ecco su questi punti si crearono delle divisioni le vedremo dopo però prima una prima divisione la creò lo stesso Célestin Frenet Célestin Frenet iniziò a insegnare nel 1920 21 e giovane insegnante andò a Montrô nel 1923 perché era ammirato da queste esperienze vedeva proprio questa vicinanza tra la scuola e la vita che era anche un tema che a lui stava molto caro ma ne tornò deluso da quell'esperienza ne tornò deluso perché vide delle scuole per figli di benestanti in situazioni molto educorate con materiali dall'alto costo e quindi si rese conto quando tornò a Bar-sur-Rou nella sua scuola che i suoi figli proletari figli dei pastori dell'entroterra francese in una scuola pubblica e povera ben poco avrebbero potuto raccogliere di quell'esperienza ed è lì che poi Frenet iniziò la sua esperienza a partire dalla tipografia scolastica un'esperienza un po' diversa da quella di altri esponenti dell'educazione nuova torniamo all'educazione nuova ecco negli anni tra il 1920 e il 30 l'educazione nuova ci furono congressi fino al 1939 e poi come potete comprendere con la guerra furono sospesi nel corso di tutti questi congressi che si tenero dopo Montreux a Locarno e poi nel 1932 a Nizza si unirono molti altri si unì Maria Montessori ma solo successivamente Maria Montessori fu presente personalmente con i suoi bambini i suoi materiali nel 1932 addirittura un treno intero gli fu preparato dallo Stato Italiano per poter rappresentare la pedagogia italiana che allora Mussolini voleva propagandare attraverso il Montessorismo così come Jean Piaget Celestin Freinet lo abbiamo già detto Elisabeth Roten Roger Cousinet Robert Dautrin Paul Gebb un tedesco di orientamento anche lui anarchico Pierre Bovet che fu il direttore dell'istituto russo eccetera ecco qui vedete un'immagine del 1927 di Locarno con alcuni di questi personaggi da sinistra vedete Ovid De Croly Pierre Bovet Beatrice Hansor inglese una teosofa che amava moltissimo Montessori proprio per questo orientamento teosofico che li univa Edouard Claparede di cui abbiamo già parlato Paul Gebb è quello con la barba e l'ultimo a destra che vedete è il nostro Adolphe Ferriere di cui abbiamo abbiamo già parlato ecco qui però vedete gli slogan come diceva prima Enrica l'educazione nuova si è unita nel 1921 attorno ad alcuni slogan la scuola attiva contro la scuola seduta non suona bene in italiano ma in francese suona meglio Ecole active contro Ecole assise rispetto dello sviluppo naturale del ragazzo contro l'imposizione libertà versus autorità individualizzazione versus normalizzazione scoperta invece che trasmissione di contenuti spontaneità del bambino invece che obbligo cooperazione invece che concorrenza ecco a sinistra vedete questi slogan slogan che adesso sono ripresi ma attenzione gli slogan hanno una natura duplice perché in realtà le cose non sono così semplici la libertà come vedremo non sempre si contrappone all'autorità e la spontaneità non sempre si contrappone ai vincoli ed è proprio di questo che andarono a discutere negli anni successivi questi educatori e cioè negli incontri che fecero si cominciarono a chiedere la libertà del ragazzo è un fine o è un mezzo per favorire qualcos'altro che è la vera autonomia che lui non ha ancora raggiunto su questo si discusse molto e soprattutto si arrivò a a Nizza a porre l'accento maggiormente su un altro aspetto cioè quello della socialità fino ad allora si era messo soprattutto l'accento sull'espressione individuale del bambino sulla sua espressione creativa in quanto individuo e nel 1932 nel momento in cui stavano ascendendo crescendo i totalitarismi in Francia in Italia noi avevamo avuto questa triste primazia insomma eravamo stati i primi e in Germania ci si rese conto che un'educazione alla pace voleva dire non solo sviluppare l'espressione creativa del bambino ma soprattutto come dire lavorare per una sua integrazione in una società democratica e solidale ecco quindi la libertà come punto fondamentale la libertà come mezzo ma per costruire un'autonomia che deve essere anche un'autonomia nella società naturalmente tutti condividevano un'idea cioè che la libertà non è una concessione dell'educatore ma è un punto di partenza in fondamentale perché è la natura del bambino a richiedere libertà ecco quindi che come vedete da questa slide in realtà all'interno di questi movimenti si crearono delle tensioni delle tensioni che sono presenti ancora adesso quelle principali sono per esempio quella di cui abbiamo già parlato adesso da una parte coloro che insistentemente continuavano a pensare alla mitica bontà del bambino e a una sorta di esaltazione dello suo spontaneismo l'esempio più eclatante di tutto questo è Alexander Neill di cui avete sentito parlare nel video Alexander Neill era quello della famosa i bambini di Summer Hill che era una scuola in cui lui non insegnava nulla i bambini potevano fare tutto quello che volevano comprese pratiche sessuali proibite in altri in altri contesti che fece scandalo questa scuola ed era una scuola di totale anarchia quindi abbiamo l'esempio perciò di Alexander Neill da una parte abbiamo l'esempio invece di altri come Montessori per esempio o lo stesso Frenet che pensavano che la libertà fosse importante ma che per esercitare la libertà bisognasse costruire anticipatamente ambienti e istituzioni cioè luoghi che attraverso alcuni vincoli permettessero a questa libertà di esprimersi perché la libertà la libertà vera secondo loro si esercita solo all'interno di istituzioni non istituzioni repressive ma istituzioni auto-organizzate dai bambini stessi ecco questo tema dello spontaneismo come esaltazione della mistica infantile o come invece libertà all'interno di istituzioni è un tema che è ancora in discussione oggi oggi soprattutto che siamo viviamo una società in cui la tendenza è verso sinistra in questo caso non nella sinistra politica cioè nella società individualistica di oggi la tendenza a farsi riprendere dalla mistica dell'infanzia è soprattutto in una società che attraverso il consumismo esalta l'infantile come valore di vita il rischio è grosso ma i contrasti erano anche altri per esempio si crearono dei contrasti tra i pratici e gli psicologi di Ginevra perché gli psicologi ginevrini pensavano che prima di fare una buona pratica educativa e didattica bisognasse conoscere il bambino quindi solo una buona conoscenza psicologica poteva permettere all'insegnante di fare una buona didattica questo è un tema che è ancora presente anche nelle nostre università ma dall'altra parte c'erano i pratici che dicevano no la pratica non è un'applicazione di teorie è giusto conoscere psicologia dell'apprendimento come conosce un bambino i suoi problemi psicologici però poi l'educazione è qualcosa che avviene in situazione e che è soggetto alla continua inventività dell'insegnante che terrà conto di quelle cose ma che non è un mero applicatore di teorie psicologiche ecco queste discussioni c'erano già allora e continuano ancora adesso così come lo ricordava prima Enrica continua la discussione tra è meglio farlo in scuole private visto che la scuola pubblica funziona male oppure è necessario che l'educazione nuova costituisca un fermento per migliorare la scuola pubblica ecco questo è un dibattito tuttora presente in Italia e non solo Enrico sono costretta a riportarti ai tempi perché se no non ce la facciamo allora mi fermo qui Enrica mi fermo qui va benissimo mi fermo qui perché se no mi resta poco tempo per la seconda parte va bene va bene allora adesso io ti do la parola così Enrico adesso presenterà il Padlet vado col Padlet e guardo prima anche di nuovo sto tenendo sotto controllo se per caso c'è qualche domanda qualche riflessione va bene aspetta un attimo dico solo una cosa sul Padlet nel Padlet voi vedrete sarete sollecitati a esprimervi su due principi entrambi importanti ma in tensione tra di loro uno preso dai principi di Calais del 21 e uno preso dai principi di Nizza del 32 esprimetevi pure liberamente e poi ne parliamo grazie Enrico grazie tanto poi adesso ci torno mentre lo presento intanto chiedo a Isa gentilmente di riaprire la chat in modo che se qualcuno ha bisogno di intervenire possa farlo la chiudiamo solo nei momenti proprio in cui interviene Enrico proprio per evitare come dicevo prima di distrarci perché è importante stare concentrati sui temi bene allora vado a condividere lo schermo io e apro il Padlet allora vi dico subito che chi dovesse avere problemi di qualche genere allora di qualsiasi genere lo invitiamo a chiedere aiuto via chat e tenere durante il Padlet il microfono spento c'è una motivazione per cui vi chiedo questo che è il fatto che chi vuole scrivere lasciare il suo pensiero diversamente non riesce a concentrarsi intanto voglio vedere come vedete ancora non abbiamo domande e riflessioni presenti quindi ogni tanto sto tenendo sotto controllo quindi è stato ripostato il link quindi ogni volta che avete bisogno di scrivere qualcosa fatelo potete farlo anche mettendo il vostro nome se vi fa piacere se no anche in modo anonimo non è un problema allora ecco il Padlet avete come vedete due principi uno è un principio estrapolato tra quelli di Calais del 1921 e potete leggerlo ma lo leggo anche a voce alta gli studi e in generale l'apprendimento del vivere devono offrire un libero corso agli interessi innati del ragazzo quelli che si risvegliano in lui spontaneamente e trovano la loro espressione nelle varie attività di tipo manuale intellettuale estetico e sociale quello che vi chiediamo ma poi la domanda come vedete è la stessa in realtà sono due e vi chiediamo di rispondere per questo principio di Calais in questo spazio quindi il colore azzurro vi aiuta perché è difficile mettere in atto questa esigenza quali sono i pericoli derivanti dalla sua realizzazione invece a destra abbiamo il principio 3 sempre sempre il numero 3 però della Lega Internazionale di inizio del 32 che dice l'educazione deve aiutare il ragazzo ad adattarsi volontariamente alle esigenze della vita nella società sostituendo la disciplina basata sulla coercizione e sulla paura della punizione con lo sviluppo dell'iniziativa personale e della responsabilità lo spazio per rispondere in questo caso è qui e quindi è lo spazio rosa per rispondere per chi non ha usato il Padlet ma credo che ormai lo utilizzino tutti è sufficiente cliccare più nella colonna di riferimento e quindi a questo punto potete mettere va bene lo parte oggetto non è importante e qui potete scrivere la vostra risposta dopodiché cliccate su pubblica scusate perché io non riesco a vederlo tutto purtroppo per come ho lo schermo lo stesso vale in questa zona cliccate più in questa colonna quindi utilizzate la colonna nel blocco celeste per il principio di Calais e del blocco rosa per il principio di inizia di Enrico prego quello che volevo sottolineare capirete che noi abbiamo messo in luce con queste domande vogliamo mettere in luce l'ambivalenza di ciascun principio esatto cioè i principi pedagogici sono spesso ambivalenti per questo sono in tensione tra di loro sono importanti ma sono ambivalenti quindi riuscire a vedere l'ambivalenza è importante per non correre dei rischi di estremizzare un concetto va bene allora chiedo a Isa gentilmente di mettere il link al Padlet chiaramente noi teniamo aperta questa videata che significa che vedremo il Padlet prendere forma nel frattempo ci prendiamo 10-15 minuti esagerando con i microfoni spenti per completare il Padlet e guardiamo lo guardiamo prendere forma e quindi buon lavoro a tutti il link sarà appunto in chat chiaramente voi dovete agire sul vostro link sul vostro Padlet prego si chiudo anche io il microfono va bene Maura mi raccomando qualunque cosa è tutta tua la chat perfetto grazie a voi un minuto e abbiamo dato il quarto d'ora un quarto d'ora pieno che però vedo che ancora qualcuno scrive ma è anche importante che io ricordi che il Padlet resta ancora attivo e lo lasceremo come facciamo sempre con queste attività lo lasciamo attivo anche dopo l'incontro quindi abbiate cura magari di copiarvi il link lo lasciamo attivo ancora fino a domani e poi domani allora chiudiamo il link giusto sì domani lo chiudiamo quindi il mio consiglio è quello di appunto copiare il link benissimo allora chiudiamo interrompo io prima di interrompere la condivisione vado a vedere sul Mentimeter se ci sono riflessioni intanto vedo che ci sono o c'è qualche riflessione allora mio figlio è buon folle ho un troppo un po' troppo libertino ha una sorella ben allineata nonostante gli stessi genitori gli stessi insegnanti in che modo posso aiutarlo a ricordare che gli adulti sono che gli adulti sono loro amici questa è una domanda sarebbe interessante identificare come si potrebbe declinare oggi un'educazione nuova però questo magari nella seconda parte perché abbiamo una parte dedicata all'eredità esatto sto solo leggendo Enrico perché così abbiamo un po' la situazione a chi a che cosa ci si dovrebbe contrappostare fammi rispondere però adesso se no non no le sto prima guardando perché io lo lascerei ci torneri dopo Enrico vuoi farlo già adesso e sì perché c'è non ricordo chi che mi dice sono stato un po' troppo duro con l'esperienza di Neil sto guardando anche questo allora io sono stato duro perché ho parlato poco di Neil però attenzione l'esperienza di Neil è un'esperienza di anarchismo di tipo anglosassone sostanzialmente molto diversa dalle esperienze anarchiche di un Francisco Ferrero di un Paul Robert qual è la diversità? Dello spontanismo assoluto cioè l'idea di Neil era che sì io non faccio assolutamente nulla comunque i bambini imparano qualcuno in generale imparavano ma perché imparavano si chiedeva Bruno Bettelam che andrò a visitare questa scuola e quando andò a visitare la scuola di Neil capì perché molti ragazzi imparavano e si mettevano a fare delle cose nonostante che potessero anche non studiare nulla perché lo amavano perché lo amavano perché lo stimavano non volevano perdere la loro stima allora questo che cosa vuol dire? vuol dire che la totale rinuncia a istituzioni in nome di una libertà assoluta lascia delle strade due strade all'educatore o la seduzione o il ritorno all'autorità non ci sono altre strade e sia pure involontariamente Neil era un grande sedutore che piaceva moltissimo Neil è anche molto amato lo capisco perché quelli della generazione del 68 di cui io faccio parte videro in Neil una delle loro icone ma questa è appunto una delle ambivalenze del 68 Enrico c'è anche questa domanda sarebbe interessante identificare dato che ti stai fermando adesso lo facciamo adesso e poi riandiamo alla parte sulla sull'eredità però già questa la apre in qualche modo beh sì sarebbe poi valuti tu anche a quali poter dare più importanza sarebbe interessante identificare come si potrebbe declinare oggi un'educazione nuova a chi e a che cosa ci si dovrebbe contrapporre un tempo era la scuola militare e oggi questo ne parlerò tra poco se mi dai la parola quando mi dai la parola una riflessione questo è il tema questo è per l'appunto il tema dell'ultimo infatti della seconda parte poi abbiamo un'altra riflessione lo spontaneismo rischia di diventare improvvisazione individualismo limitante ok questo era già il tema che si erano posti allora no cioè come comporre la libertà personale con l'essere sociale con il vivere insieme e questo è il tema insomma di ogni educazione invece la richiesta che c'è qua sul figlio eccetera mi sembra che si indirizzi un po' in una direzione diversa forse ci conviene prima sì questa è una risposta molto personale che ho qualche difficoltà a rispondere non conoscendo anche secondo me è molto personale è molto difficile entrare in una situazione solo una cosa però mi premo di dire prego Enrico se lui si conosce bene sì prego in generale non parlerei di genitori amici io parlerei di genitori che fanno gli adulti il che non vuol dire che devono essere autoritari però assumersi il ruolo assumere il ruolo di adulto fino in fondo sono d'accordo io sono viviamo in un'epoca lo ripeto lo dice anche il mio amico Philippe Merieux di cultura dell'infantilismo e dell'adolescenza protratta e l'esaltazione dell'infantile è tipico della società dei consumi quindi infatti il problema dell'adultità è un problema grosso oggi il problema della responsabilità dell'adulto in quanto genitore in quanto maestro in quanto educatore è un problema importante bene allora io adesso chiuderei questa condivisione dello schermo e allora abbiamo Maria che non potrà stare troppo con noi e che sta seguendo il Padlet e deve andare via un po' presto quindi io direi adesso posso condividere? in 10 minuti ti faccio riprendere l'intervento ce la fai in 10 minuti? ma certo ma certo allora 10 minuti così torniamo al Padlet e poi invece andiamo alle domande così giusto per pescare almeno poi abbiamo bisogno di una lettura attenta e di rimanere certo allora quella lì era la scuola che avevano negli anni 30 e quella che vedete in questa fotografia aggiungo che era anche un po' la scuola che ho frequentato io negli anni 50 quindi voglio dire non era cambiato molto neanche durante la guerra ciò che li univa era proprio il fatto di avere una scuola caserma contro cui erano tutti uniti nonostante le differenze di cui abbiamo abbiamo parlato allora io salto questa parte sulla pedagogia tradizionale volevo dirvi alcune cose sul sul come la pedagogia tradizionale non sia più quella scuola caserma che avevano i nostri diciamo amici del 1921 ma non per questo la pedagogia tradizionale si è persa quando oggi noi siamo in qualche modo viviamo all'interno di un sistema scolastico governato da un modello manageriale tecnocratico che ha imposto come suoi principi la competizione per esempio e il pilotaggio dei risultati non è che abbiamo fatto la scuola nuova abbiamo sostituito una pedagogia tradizionale con un'altra pedagogia tradizionale anche essa fondata su un modello trasmissivo e con un valore della competizione che prevale sul valore della cooperazione guardate qui cito l'espressione di un pedagogista che ci ha scritto anche di intervenuto a Roma nel novembre scorso scrive Janussei il progressismo organizzativo cioè sostanzialmente il modello manageriale che gestisce gran parte degli sistemi scolastici occidentali ha vinto perché ha potuto inserirsi nella scia della pedagogia tradizionale non è una novità cioè è una nuova forma di pedagogia tradizionale mentre il progressismo pedagogico cioè quello che dovrebbe essere l'erede dell'educazione nuova resta contrario a tutto questo il progressismo pedagogico l'erede dell'educazione nuova ha vinto dice sempre Reusei la battaglia delle idee ma ha perso sul piano politico questa è la realtà e sulla base di questa realtà che noi possiamo muoverci perché dobbiamo convincere che il progressismo pedagogico è anche più efficiente se vogliamo formare e apprendere di più le nuove generazioni se vogliamo formarle a partire dall'apprendimento piuttosto che dall'insegnamento se non si va a toccare la forma scolastica l'insegnamento simultaneo trasmissivo di cui parlavamo prima non ci sarà una scuola nuova non ci sarà neanche una scuola migliore allora quali sono i problemi di adesso i problemi di adesso che noi oggi viviamo in una società individualizzata in cui come ricordavo prima l'esaltazione dell'infantile è l'elemento principale in cui c'è una crisi della funzione simbolica dell'istituzione in nome dell'individuo il genitore che vive la scuola come un supermercato diciamo per raccogliere un prodotto utile al proprio figlio ecco prevalgono quindi nella società occidentali non solo quella italiana posizioni che utilizzano i luoghi comuni dell'educazione nuova solo su un versante quello dell'individuo quindi ritorno all'esaltazione della spontanea creatività infantile contro qualunque istituzione perché sarebbero per natura repressive la promozione dei talenti pensate alle ricerche che molti scuole di psicologia promuovono sulla ricerca dei talenti i gifted e non i gifted per poi sviluppare dei processi di insegnamento adatti a quel talento e poi in molti casi questo si fa il paio con le due ipotesi precedenti la critica radicale della scuola pubblica tutte queste diciamo tendenze sono accomunate dalla attenzione all'individuo piuttosto che alla collettività la collettività viene vissuta come qualcosa di fastidioso nella società individualizzata di cui parlava Bauman il problema è che del collettivo abbiamo bisogno perché noi siamo esseri sociali ed è nella società che noi viviamo e ne è con gli altri che noi viviamo l'assenza di spazi collettivi significa disgregazione della società e non libertà come potrebbe sembrare ma spesso aumento dei conflitti come oramai stiamo vedendo anche nella società occidentale con l'aumento e lo sviluppo dei populismi ecco che fare mi chiedeva qualcuno io non ho la soluzione naturalmente io credo però che bisogna riprendere quei principi di cui parlavamo all'inizio parlando dell'illuminismo cioè ci sono due principi fondamentali dell'educazione che sono quelli anche dell'educazione nuova e di quella di oggi che dobbiamo raccogliere l'esigenza di emancipare gli individui di sviluppare la loro autonomia personale e la loro emancipazione anche da noi stessi ma contemporaneamente favorire la loro partecipazione nella vita della collettività le due cose non sono in contrasto ci sono progetti pedagogici mi permetto di citare quello frenetiano a cui io sono vicino che cercano diciamo di rendere compatibile la libera espressione del bambino attraverso l'organizzazione però di istituzioni auto-organizzate che preparano già la sua vita nella collettività e poi un'educazione non fondata sulla competizione che è quella prevalente nella società di oggi ma sulla cooperazione dal punto di vista didattico che cosa vuol dire vuol dire un'organizzazione didattica non più fondata sulla lezione ma su una pedagogia del problema del progetto è un'organizzazione del lavoro tempi spazi materiali libri alternativa alla forma scolastica pensate quanto importante è l'organizzazione dello spazio l'organizzazione dello spazio in un'aula mi dice il tipo di pedagogia che io pratico l'organizzazione dei tempi mi dice il tipo di pedagogia che io pratico quel modello la forma scolastica dovrebbe essere abbandonata ma è molto difficile da abbandonare da parte di molti insegnanti perché fa parte delle routine che hanno appreso quando erano allievi e così contemporaneamente promuovere in tutti i luoghi educativi istituzioni per vivere insieme istituzioni vuol dire situazioni organizzate che non vincolano la libertà del bambino al contrario gli lasciano la possibilità proprio perché organizzate prima di esprimersi liberamente e solo all'interno di queste situazioni organizzate che la loro creatività può essere diciamo sviluppata questo lo avevano ben capito educatori come Frenet come la stessa Montessori pur diversi tra di loro questo principio Fernand Uri per esempio ecco questo principio della costruzione di istituzioni auto-organizzate per preparare la capacità di vivere insieme è fondamentale per preparare il cittadino democratico di domani concludo con una riflessione e cioè l'educazione nuova non ci lascia solo un'eredità pedagogica ci lascia anche un'eredità morale come ricordavo all'inizio per essere educatori non basta avere delle competenze non basta avere delle conoscenze bisogna anche avere dei principi il mio amico Filippo Merio direbbe bisogna avere una fede ma attenzione lui intendeva fede non nel senso religioso metafisico in questo caso intendeva la fede nel senso greco cioè di fiducia nel futuro l'educazione nuova insomma ci ricorda oggi che educare per ciascuno di noi significa rispondere a un appello che ci chiama e a cui non ci si può sottrarre per una sorta di responsabilità etica era una fede che univa quegli educatori al di là delle differenze e che secondo me può e deve unirci ancora oggi forse è la cosa più importante e contemporaneamente questa fede vuol dire credere nell'educabilità di tutti anche contro ogni evidenza credere nella libertà dell'altro anche quando la libertà dell'altro può portarci a correre dei rischi che non vorremmo correre perché solo se noi crediamo nell'educabilità dell'altro e nella sua libertà possiamo costruire situazioni nuove affrontare le consperanze anche quando incontriamo delusioni perché attenzione l'incontro di delusione l'incontro di difficoltà gli insuccessi fanno parte di quelle contraddizioni che tutti i giorni incontriamo senza perciò questa fiducia ecco nell'altro e nell'educabilità di tutti non riusciremmo ad andare avanti bene io vi ringrazio e concludo appunto sulla scia di queste ultime mie parole con una frase di Dietrich Bonhoeffer il pastore protestante come sapete ucciso dai nazisti in campo di concentramento quando scriveva il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini grazie 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 Enrico per questo tuo contributo preziosissimo poi torniamo di nuovo alle domande alle riflessioni però io andrei subito un attimo al Padlet perché ho visto delle cose comunque interessanti e purtroppo Maria che ringrazio tantissimo per averlo seguito ci ha dovuto lasciare ci sta lasciando perché aveva un altro impegno che ci aveva già comunicato ed è lei che si è occupata di esplorarlo in modo puntuale io però ripesco proprio una sua inizierei ripescando una 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 diciamo post-it a cui lei che lei ha messo in evidenza perché tra noi chiaramente siamo in contatto ma io anche andrei poi a qualcun altro che ho visto vado Enrico lo spontaneismo è un approccio che non considera la rete di relazioni che caratterizza l'esperienza di ogni persona il rischio è quello di un'educazione basata sull'individualismo la mente creativa ci ricorda Rodari è una mente sempre impegnata a fare a porsi domande a ricercare nel mondo con gli altri che aggiungerei che dici Enrico? Sì io sono del tutto d'accordo Rodari dice una cosa importante delle pedagogie attive cioè che per evitare che l'individualismo si scateni i ragazzi devono fare cioè per questo è importante la scuola attiva perché nel momento in cui si coinvolgono i ragazzi in un'attività che a loro interessa è soprattutto un'attività non scolastica un'attività pratica di cui vedono la finalità quindi un progetto pratico che ha anche ovviamente dei risvolti intellettuali penso per esempio al giornale tanto per intenderci questo serve per mediare le relazioni cioè l'insegnante non è uno psicologo com'è che si riesce a mediare le relazioni facendoli fare organizzando delle situazioni in cui fanno qualcosa per qualcuno grazie Enrico io volevo pescare subito poi do la parola alle altre del gruppo che intanto stanno esplorando il Padlet e ci danno anche loro ci offrono qualche post-it come elemento di riflessione allora Renato per quanto riguarda il principio invece 3 di Nizza dice trovo pericoloso l'incipit deve aiutare ad adattarsi alle esigenze della vita nella società in particolare perché nascosta in questa tesi vi è la possibilità che la scuola diventi un luogo di esercizio quindi un luogo fittizio allora Renato ha certamente ragione questo rischio c'è come dicevo prima ogni principio alla sua ambivalenza ma questo richiama a quello che uno studioso francese chiamava il doppio gioco della scuola cioè la scuola dobbiamo saperlo fa un doppio gioco l'emancipazione degli individui da una parte e poi dall'altra parte quando arriva su 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 selezionare per la società quelli che dovranno andare a fare delle cose questo questo funzione della scuola che a noi non ci piace però poi alla fine ci sarà e quindi il problema è come contemperare queste due esigenze cioè sostanzialmente l'esigenza dell'emancipazione dell'individuo con quello dell'inserimento nella società è un tema effettivamente importante perché perché il rischio c'è proprio quello di un adattamento alla società invece il problema che si ponevano quegli educatori non era tanto mi permetto di dire di adattarli alla società così come è ma di preparare la società di domani quindi anche di cambiarla la società anche di pensare a una società diversa quindi l'attenzione al sociale non vuol dire semplicemente adattarsi alla società così come nell'interpretazione che davano loro e che credo di dare anch'io ma anche di contribuire a costruire un umbrione di una società migliore era quello che pensava Frenè ed è quello che penso io grazie Enrico mi sposto però un secondo sul Mentimeter e poi torniamo qui e così do la parola a Isa e Maura ho visto che c'è intanto questa domanda Enrico vuoi dire qualcosa la domanda di prima che ti chiedeva a chi a che cosa ci si dovrebbe contrapporre oggi se un tempo era la scuola militante parliamo cosa ci deve contrapporre due cose sarà molto breve primo ci si deve contrapporre al modello manageriale tecnocratico il che non vuol dire non fare le prove in valsi e sia ben chiaro però sapere che il modello tecnocratico è fondato sul pilotaggio dei risultati cioè che l'ossessione valutativa è pericolosa il modello manageriale tecnocratico è fondato su un centro che diciamo così dà gli indirizzi valuta alla fine attraverso questa valutazione tende a pilotare l'azione degli insegnanti ma l'insegnante viene lasciato solo quindi e questo è una delle cose a cui ci si deve opporre poi c'è il problema della deriva diciamo così liberista di tante scuole private comprese l'homeschooling che si stanno sviluppando nella nostra società individualizzata questo è un altro rischio a cui ci si dovrebbe opporre dal mio punto di vista grazie Enrico leggo qua può salvarsi la scuola pubblica se scuole nel bosco e scuole parentali e quindi riprendiamo anche quello che sono spesso la ricerca di un isolamento il rifiuto scusate sono spesso la ricerca di un isolamento il rifiuto della dimensione sociale dall'alto la scuola pubblica sembra non abbia più alcuna tensione verso il cambiamento e qui c'è allora qui dico una cosa non necessariamente le scuole non pubbliche sono scuole da condannare se queste scuole diciamo così innovative non pubbliche si presentano non come scuole in antitesi alla scuola pubblica l'antitesi ideologica alla scuola pubblica ma come fermenti per migliorarla no? come era per esempio l'esperienza di dei ciasi vivi è un pezzo molto pericoloso perché comunque una scuola privata ha un costo quindi inevitabilmente aspetta no fammi finire allora è chiaro che va bene a certe condizioni primo che non sia in contrasto totale con la scuola pubblica e secondo che garantisca la presenza di tutti indipendentemente dal ceto sociale cosa che è molto difficile ovviamente a causa delle rette non sarei così pessimista nei confronti della scuola pubblica proprio per quella fiducia di cui parlavo prima perché perché la scuola pubblica non dobbiamo dimenticarlo è il luogo più importante di costruzione dello spazio pubblico tra diverse persone di diverse etnie di diverse religioni di diverse culture è il luogo in cui si costruisce il vivere insieme è difficile che questo si possa fare in scuole di comunità perché nelle scuole di comunità che sarebbero le scuole diciamo così di modello private ci si ritrova tra uguali ora se noi non vogliamo andare verso la frantumazione della società ma costruire una società più solidale dobbiamo fare in modo che come dicevano proprio i nostri antenati di allora i bambini tutti si siedano sugli stessi banchi ok torno sul parlete Enrico e do la parola una volta la do sia a Maura e poi a Isa così vediamo cosa hanno pescato loro prego Maura va bene grazie Enrica allora sì io vi sottoporrei una domanda che è questa educarsi alla cittadinanza significa adattarsi volontariamente o contribuire consapevolmente alla costruzione sempre aperta e critica della relazione con il mondo l'ha già detto lei o lui certo è la seconda ovviamente se fosse la prima sarebbe la negazione di tutti i principi dell'educazione nuova è la prima è una una costruzione l'idea fondamentale dell'educazione nuova che anche la nostra idea oggi è che il vero cittadino non è un suddito è un autonomo e quindi dotato di pensiero critico e come persona dotata di pensiero critico dà un contributo creativo anche alla formazione della società di domani suo insieme ad altri però insieme ad altri non da solo perché come diceva Don Milani da soli è egoismo esatto Isa ci fai una tua lettura sì io ho pescato all'interno della risposta del principio Nizza 1932 dice adattarsi volontariamente indica una crescita di consapevolezza una maturazione della responsabilità ma è vero che non c'è coercizione o punizione ma neanche libertà in quanto sembra voler dire fai comunque ciò che io ho deciso per te sì esatto allora in effetti quell'espressione lì adattarsi volontariamente può sembrare voler dire proprio quello e cioè io ti faccio fare quello che ti faccio fare volontariamente quello che io vorrei che tu facessi c'è tra l'altro proprio una frase di Rousseau nell'Emilio se me vi ricordate che lascia proprio intendere questo perché a un certo punto dice Rousseau caro precettore lui deve essere libero ma tu devi prevedere tutte le sue mosse e devi sapere già cosa farà non farà nulla che tu non abbia già previsto quindi vedete che il libertario Rousseau anche lui ci cascava in questo in fondo e cioè anche l'educatore più libertario in realtà e questo è un rischio è il rischio che corriamo sempre cioè dire che vogliamo essere liberali rispettare la libertà ma poi di fatto cadere nella tentazione di voler fabbricare l'altro la nostra immagine e somiglianza questo è un rischio che corriamo sempre tutti tutti come educatori e come genitori soprattutto come genitori per i genitori questo è un rischio ovviamente naturale se volete ma è un rischio da cui bisogna guardarsi grazie Enrico io siccome amo essere puntuale poi se qualcuno vuole trattenersi oltre facciamo come succede nei seminari in presenza qualcuno vuole avvicinarsi per la chiacchierata si fa però a me piace la puntualità quindi stare nei tempi quindi io adesso andrei a un'altra riflessione che c'è sull'untiliter e poi invece ricordo voglio ricordare ci tengo molto che il puzzle lo avrete tutti lo metteremo tra i materiali quindi avrete modo di esplorarlo bene e anche di tutti quanti noi avremo modo anche di fare nuove riflessioni in merito leggiamo questo però allora quest'anno è una cosa di più tra l'altro abbiamo parlato anche in altre occasioni quest'anno visto viste le restrizioni a cui siamo stati e siamo ancora sottoposti ci sono elementi in più per creare fermenti fuori da essa sta parlando fuori dalla scuola pubblica mi sembra doveroso farlo notare anche io abbiamo visto tutti una grande crescita sì su questo su questo sono molto d'accordo tutta l'educazione nuova si fondava sull'educazione all'aperto mi pare di averlo ricordato e ancora nella seconda dopoguerra si parlava nelle scuole attive che abbiamo frequentato noi anziani nel secondo dopoguerra di ricerca d'ambiente quindi non si può fare scuola attiva restando sempre in aula questo è certo la scuola attiva è soprattutto quella che si fa attraverso la ricerca fuori dalla scuola grazie io adesso toglierei questa condivisione anzi non interrompo la condivisione rimango direttamente qua perché per chiudere poi ripeto chi vuole trattenersi ancora per qualche domanda potrà farlo però a me piace appunto concludere ringraziando intanto tantissimo Enrico per il suo contributo tutte le preziosissimo intervento preziosissimo è sempre il supporto che ci offre come gruppo di lavoro tutti quanti coloro che sono intervenuti e poi sempre Maura Isa Riccardo che oggi erano nel gruppo ristretto di lavoro quindi per aver assicurato anche quando non è stato visibile il funzionamento di tutto l'incontro quindi grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie.